Buongiorno, mi chiamo Marisio Nessara, ho terminato il mio percorso al Master sull'Università di Ferrara Tutti e Redditi di Protezione dei Minori. È un Master online molto molto interessante. Inizialmente il fatto che fosse online mi aveva un po' bloccato, diciamo, per paura di non riuscire a confrontarmi in modo immediato con i professionisti, con i professori, con le materie, in realtà è stato un percorso molto interessante, è sviluppato in maniera, a mio parere, perfetto, il sito è ben organizzato e soprattutto sono rimasta colpita dalla quantità di materiale di cui adesso io dispongo di rispetto a tutti i moduli che abbiamo trattato, dalla psicologia della devianza ai diritti dei minori in una prospettiva evolutiva, quindi materie psicologiche, giuridiche, sociali e molto interessante è il percorso. Io ho scelto il percorso giuridico, ma c'è il percorso educativo, il percorso psicologico, quindi io lo consiglio, lo consiglio vivamente e è un grande in bocca al lupo se decidete di farlo. Ti facciamo qualche domanda. Per quanto riguarda le video lezioni, hai avuto accesso immediato? Sì, 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 assolutamente. È semplice connettersi? Sì, 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 c'è questa piattaforma dove ci sono le video lezioni e oltre le video lezioni ci sono anche poi le slide e ogni gruppo di slide è rispetto ad una video lezione. Puoi guardarle tutte le volte che ti pare? Sì, 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 assolutamente. Per quanto riguarda lo stage? Lo stage è stato molto interessante ed è... Io arrivo da Ovada, quindi un paesino in provincia di Alessandria ed è stato per me positivo il fatto di poter scegliere una struttura vicino a dove abito e la responsabile del tirocinio è stata super disponibile dal primo momento e il percorso è di 125 ore, io ne ho fatte di più perché mi sono trovata molto bene in struttura e addirittura mi era stato chiesto di iniziare a lavorare lì. Quindi, ragazzi, sono ottime possibilità queste, secondo me sono ottime possibilità. Grazie. Con i tutor didattici di tirocinio il rapporto è stato costante oppure... Sì, ho trovato... Come l'hai percepito? Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sia a livello telefonico che anche attraverso le email, tramite le email. Io personalmente sono una persona che stressa molto e nonostante questo ho avuto sempre le risposte che desideravo alle domande, quindi mi sono trovata molto molto bene. Grazie mille Sara per tutte queste informazioni che ci lasci. Un saluto e congratulazioni. Grazie.